Sicuramente le nostre zone hanno molto da offrire, sia a livello ecogastronomico che a livello di chiese, quindi per un turismo sicuramente tutto da scoprire. Abbiamo dei luoghi bellissimi, delle montagne, la natura, quindi l'unica cosa che abbiamo bisogno è di mettere in rete questo turismo per far rimanere il più tempo possibile il turista dalle nostre parti. Grazie a tutti.